Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Signori, adesso mi incazzo, ma mi incazzo veramente tanto. E vi chiederete il perché di questa incazzatura. Vabbè, è incazzatura, incazzatura sui generis. Diciamo soltanto che avevo bisogno di una scusa per reiterare alcuni concetti da inculcare, e sottolineo inculcare, in certe teste. 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 Vabbè, parliamone. Perché? Che cosa è successo? È successo che qualche giorno fa, tal signor Angelo Balbi, ha scritto, come commento al mio video sul T-34 come icona, mito e simbolo dell'Armata Rossa, ha scritto un breve commento che però mi ha fatto decisamente girare i cocombres. Allora, che cosa ci scrive il signor Angelo Balbi a commento del video sul T-34? Scrive, critichiamo l'esercito italiano ed esaltiamo l'esercito dell'Unione Sovietica. Ormai funziona così in questo canale. Complimenti. Per chi non l'avesse capito, ve lo dico io come funziona sto canale. Concedo sempre e comunque a tutti i miei utenti la massima libertà di espressione. Sempre, 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 sempre. Sono liberi di dire cose giuste, sono liberi di dire cose sbagliate, sono liberi di darmi ragione, sono liberi di darmi torto. Chi interviene in questo canale ha sempre e comunque la massima libertà di opinione ed espressione. Anche se a volte me ne pento amaramente data la quantità di stronzate che mi tocca leggere. Ma questo è un altro discorso. Signor Balbi, denigrare l'esercito italiano ed esaltare l'esercito sovietico. Signor Balbi, sinceramente, lei non ha capito un accidente di quello che io dico nei miei video. Io la sfido, signor Balbi, a trovare una sola parola di denigrazione o di derisione nei confronti del soldato italiano e del suo valore. Troverà, caro signor Balbi e lo ripeto per l'ennesima volta anche agli altri utenti che in questo canale si dice peste e corna nonché vergogna e vituperio di che cosa? Non del valore del soldato italiano assolutamente indiscutibile. Non della sua tenacia, non della sua resistenza, non della sua capacità di lavorare e combattere in condizioni estreme. Cosa riconosciutagli dalle analisi ufficiali dell'esercito americano e cosa riconosciuta anche nella storia ufficiale dell'armata rossa. Vedi l'operazione piccolo Saturno, chiusa parentesi, ma 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 troppo facile troppo facile aprire bocca a caso e far volare i ditini sulla tastiera ancora più casualmente. No, 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 è bastato un video sul T-34. Cosa ho detto sul T-34? Carro, mito, simbolo e icona dell'armata rossa. Una delle armi fondamentali che hanno portato alla vittoria nella grande guerra patriottica i soldati dell'Unione Sovietica. Il T-34 è stata una delle armi con cui l'Unione Sovietica ha vinto la guerra. Poco ma sicuro, poco da discutere. Però io denigro il soldato, denigro l'esercito italiano. No, io non denigro l'esercito italiano. Io denigro o quantomeno espongo quella che è la realtà semplice pura e semplice dei fatti che vedono un esercito italiano, un'Italia, un sistema Italia, un regime, quello fascista, che entra in guerra criminalmente impreparato, assolutamente privo di una direzione strategica, assolutamente privo di qualsiasi cognizione di causa della guerra moderna, assolutamente privo di coordinazione di coordinazione tra le armi, assolutamente privo di una sensata conduzione della guerra. I soldati italiani, io sfido qualunque persona, sfido chiunque, chiunque, a trovare una sola parola di denigrazione negli oltre 300 video di questo canale. io sfido chiunque a trovare una singola parola di denigrazione sul soldato italiano e sul suo valore. Mi sentirete parlare male dei comandanti, mi sentirete parlare male del regime, mi sentirete parlare di impreparazione, di avventatezza, di irresponsabilità, mi sentirete parlare dei guai in cui ci cacciamo entrando in guerra, mi sentirete parlare di compass, cioè è colpa mia se 30.000 britannici hanno preso e bellamente spezzato schiena, reni, gambe e ginocchia a 300.000 soldati italiani in Libia e Cirenaica agli ordini di quel disgraziato di Graziani è colpa mia è parlare male dell'esercito italiano cioè non è mica colpa mia se l'esercito italiano con l'operazione compass nel 1940 ha fatto una grandissima figura di palta non è colpa mia se nello stesso momento l'offensiva in Grecia si arenava miseramente e nel giro di pochi mesi i greci si presero mezza Albania non è colpa mia non è colpa mia se in Russia andammo a cacciare la testa nelle fauci dell'orso sovietico che ce la masticò per bene non è colpa mia non è colpa mia se il nostro esercito era impreparato se le nostre forze armate non erano all'altezza se la marina non era in grado di affrontare non era in grado di affrontare la guerra moderna perché la dottrina operativa della regia marina che prevedeva un confronto nel Mediterraneo centrale contro forze non troppo superiori ok collassò questa dottrina malamente dopo neanche tre mesi di guerra è colpa mia questa signor Balbi è parlare male dell'esercito italiano o è parlare male dei disastri della nostra impreparazione o è rivelare il fatto che noi quella guerra non la dovevamo vedere neanche con il cannocchiale e denigrare questo oppure esaltare l'esercito sovietico perché parlo bene di che cosa del T-34 o dello zvero boy vabbè signori lo zvero boy il mio amato scatolone corazzato su cingoli lo zvero boy signori scusate cioè vi dico solo una cosa il confronto è ancora più impietoso quando si tratta di queste cose cioè ci rendiamo conto che mentre i russi producevano migliaia di T-34 noi facevamo fatica a produrre 50 M-13 o M-14 al mese eh signor Balbi questo non è parlare male dell'esercito italiano questo è narrare la realtà pura e semplice dei fatti non eravamo all'altezza di affrontare una guerra moderna non eravamo all'altezza di combinare alcunché in una guerra moderna duramo anche troppo grazie a che cosa grazie al valore al coraggio all'abnegazione allo spirito di sacrificio dei nostri soldati ma i nostri generali lasciamo perdere lasciamo perdere vuole perché signor Balbi si faccia una domanda e si dia una risposta perché nella top ten chiamiamola così dei peggiori generali della seconda guerra mondiale c'è una grandissima presenza di italiani eh se lo chieda perché nella top ten dei peggiori e più disastrosi comandanti militari della seconda guerra mondiale ci sono sempre e comunque fissi presenti chi? Graziani Soddu Roatta e Visconti Prasca eh chiedetevi perché chiedetevi perché chiedetevi perché se ne siete capaci chiedete perché in mezzo a figuri come il generale americano Friedendal o a MacArthur o a Percival o a Gamlen appaiono sempre e comunque le brutte facce di chi? Dei generali italiani dei generali di Mussolini insomma signori signori signor Balbi signor Balbi qua non è questione di parlare male dell'esercito italiano o di parlare male dei nostri soldati qua è questione semplicemente che noi quella guerra non la dovevamo vedere neanche con il binocolo eravamo impreparati e non sono io a dirlo non è la mia brutta faccia a cazzo sono alcune migliaia di libri sono alcune migliaia di libri che parlano della seconda guerra mondiale e tutti i libri cioè tenga presente una cosa signor Balbi questo libro La strada della vittoria ok La strada della vittoria scritto da Richard Overy uno dei più importanti testi sulla storia della seconda guerra mondiale se lo legga l'Italia viene citata di straforo se no una decina di volte e il confronto con la capacità bellica alleata è assolutamente impietoso e non è colpa mia se i dati di fatto parlano chiaro se i dati di fatti parlano di un esercito povero mal armato poco addestrato con leoni i nostri soldati governati da chi da scimmie gallonate non è colpa mia signor Balbi no non è proprio colpa mia eh avete presente avete presente quello che accade cioè esalti il soldato soviet esalti l'esercito sovietico ma cosa esalto che cosa esalto spiego parlo dico cioè dire semplicemente che l'esercito sovietico nel 1944 avanzò di circa mille chilometri in pochi mesi con una con un titanico sforzo strategico e logistico con l'operazione Bagration ok significa esaltare l'esercito sovietico confrontando la nostra miserabile avanzata su Sidiel Barrani o il nostro attacco alla Grecia il confronto è assolutamente impietoso signor Balbi siamo sinceri siamo sinceri non è denigrare l'esercito italiano è semplicemente fare un confronto tra dati di fatto i dati di fatto parlano chiaro la disastrosa partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale ebbe termine solo nel 1943 soprattutto grazie all'eroismo e al coraggio dei nostri soldati che fecero molto più del loro dovere e che veramente cavarono sangue dalle rape pur di obbedire agli ordini pur di salvare la patria pur di pur di combattere insomma i nostri soldati si coprirono di gloria ma la gloria serve a poco quando sei condotto male quando non hai armi quando non hai munizioni quando non hai carburante quando i tuoi carri armati sono scatolette di sardine quando la tua mitragliatrice si inceppa perché l'olio d'oliva rettificato che deve essere usato per rubrificare l'arma si congela quando sei costretto a prendere il volo su un attrezzo che è poco più di un fossile volante cosa devi fare quando combatti su una nave senza radar quando ti trovi agli ordini di un generale talmente tanto imbecille che la sera cascasse il mondo alle nove di sera si ritira nel suo quartier generale a far cosa? a comporre musica da film che vi posso dire signori che vi posso dire il signor Balbi mi accusa di come dire denigrare le forze armate italiane il signor Balbi mi accusa di esaltare l'esercito sovietico qui c'è poco da denigrare o da esaltare qui c'è da raccontare la pura e semplice cazzo di realtà dei fatti signori non c'è nient'altro da dire i fatti i fatti i fatti l'oggettività dei fatti la realtà oggettiva dei fatti parla estremamente chiaro fumo umiliati fumo distrutti fumo disfatti ma non certo per colpa dei nostri soldati fumo umiliati distrutti e disfatti per colpa di chi per colpa di chi quella guerra la volle per colpa di chi quella guerra la condusse per colpa di chi quella guerra fu portata avanti in maniera disastrosa non certo per colpa dei nostri soldati che fecero anche troppo ma questo qui al signor Balbi è evidentemente sfuggito ho fatto più di 300 video ormai in due anni da che ho aperto questo canale e come sempre come sempre come sempre come sempre devo trovare il solito fenomeno paranormale che mi viene a rompere le tasche con la storia che io denigro le forze armate che io parlo male del soldato italiano sto cazzo io non parlo male del soldato italiano non mi sentirete mai parlare male di come il soldato italiano si comportò in guerra no ma mi sentirete dire quello che la storia ci ha lasciato a proposito dei comandanti militari che avevamo che a parte una manciata di nomi sempre i soliti sono tutti estremamente sono tutti diciamo tra il disastroso e il pessimo da Badoglio a Graziani da Roatta a Visconti Prasca da Soddu 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 Dio mio Soddu vabbè lasciamo stare cioè Gentaglia così non me lo sono inventato certo io che von Rundstedt sosteneva che nell'esercito tedesco i generali italiani sarebbero stati al massimo colonnelli dell'intendenza non me lo sono certo inventato io non è denigrazione la realtà storica la realtà storica dei fatti parla chiaro la realtà dei fatti parla chiaro le testimonianze parlano chiaro i documenti parlano chiaro su come eravamo messi quando entriamo in guerra eh signori cioè qui c'è poco da scherzare cioè signori qui c'è poco da scherzare io mi incazzo come un animale e non dovrei e non dovrei ma tanto lo sapete ho tracce di sangue nel napalm che mi scorre nelle vene che ci volete fare è più forte di me devo rispondere a certe cose e reiterare certi concetti tra l'altro è molto utile per farli per cercare almeno di farli entrare in certe teste e ricordatevi una cosa e ricordatevi sempre una cosa questo canale è libero è aperto a tutti funziona solo grazie esclusivamente alla buona volontà e al tempo libero del sottoscritto questo canale cerca di fornire le basi cerca di fornire le basi le documentazioni cerca sempre di fornire cerco sempre di fornire come dire la le pezze d'appoggio su cui discutere cerco di non parlare a vanvera come invece qualcuno fa e riesce nell'impresa di farmi imbestialire vabbè impresa tutt'altro che difficile considerato il caratterino che ho comunque sia scusate la tirata tanto per cambiare era un po' che non mi incazzavo diciamo che mi mancava spero che vi siate come dire spero che vi abbia comunque interessato la cosa quindi cari signori commentate 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 qua sotto e come sempre arrivederci al mio prossimo video ciao 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 ciao